Si può essere magistrati eppure stravolgere il diritto? Si può essere esponenti della giustizia, ma lavorare contro gli interessi della giustizia? Si può essere, o essere stati in questo caso, bolcevichi e nazisti? Sì, lo so, la maggior parte di voi, soprattutto di fronte all'ultima domanda, avrà pensato, no dai, è impossibile, ma chi può essere al contempo bolcevico e nazista? Beh, un esempio storico ce l'abbiamo avuto. Un esempio storico di un personaggio davvero terribile, un personaggio che è passato la storia per i suoi eccessi, le sue urla, il suo carrierismo, il suo arrivismo, il suo razzismo, il suo essere completamente soggiogato alla sete personale di potere e a una missione, quella di servire il potere stesso. Quest'uomo, quest'uomo oscuro, quest'uomo a tratti anche brutale, ha mandato a morte decine, centinaia, migliaia di persone, solo per un motivo, erano d'intralcio alla causa che lui serviva. La causa nazista. Quest'uomo, da cui vita sembra un romanzo, ha attraversato la prima metà del Novecento e l'ha fatto lasciando delle tracce evidenti che sono impossibili da dimenticare. E la sua scomparsa è legata forse a quel vecchio concetto classico greco, quello della Nemesi, perché la storia e il destino forse hanno cercato di riequilibrare quanto aveva fatto in vita con i suoi crimini attraverso una morte mai così simbolica. L'uomo di cui parliamo oggi si chiamava Roland Freisler ed è passato alla storia come il giudice boia di Eidolf Hitler. Lo stesso Hitler lo chiamava il mio bolcevico. È un po' strano, no? Che un dittatore di estrema destra si riferisca a un suo sottoposto, tra l'altro a lui molto fedele, anche se con un rapporto molto particolare, poiché lo stesso Hitler aveva preferito non incontrarlo mai di persona. Dicevamo si riferisca come un bolcevico, cioè quanto di più opposto possibile all'ideologia nazista. Ma per quale motivo? Semplicemente Roland Freisler, che da giovane aveva servito nell'esercito imperale tedesco durante la Grande Guerra ed era stato fatto prigioniero sul fronte orientale, aveva trascorso alcuni anni di prigionia in un campo in Siberia, campo gestito dai bolcevichi. E proprio in quel campo Freisler aveva non solo imparato la lingua russa, che gli sarebbe stata utile diversi anni più tardi, ma aveva cominciato a prendere lezioni, diciamo così, del sistema sovietico, del nascente sistema sovietico, soprattutto per quanto riguardava la gestione dei prigionieri e della giustizia. Una giustizia che Freisler avrebbe interpretato a modo suo. Figlio di una famiglia protestante, cresciuto in un ambiente protestante, cresciuto all'interno della Germania imperiale. Freisler, quando era tornato a casa nel 1920, aveva aperto assieme al fratello Oswald uno studio di avvocatura a Kassel e non dimostrava esattamente simpatie di sinistra, men che meno bolceviche. Ricordiamo che gli anni venti in Germania, soprattutto all'inizio degli anni venti, furono particolarmente tumultuosi, con episodi come la Lega Spartachista o i tentativi di instaurare delle velleitare e di breve durata repubbliche sovietiche all'interno dei vari land tedeschi. Ebbene, Freisler si sarebbe dimostrato subito un fervente nazionalista, al punto da entrare a metà anni venti nel partito nazista, il partito nazionale socialista dei lavoratori tedeschi, che dopo il fallimento del Putsch di Monaco, ne abbiamo già parlato in un altro video, nascita di una dittatura presente in questo canale, aveva deciso di mutare pelle, di non percorrere più la via rivoluzionaria, ma di sfruttare le strutture democratiche, comprese le elezioni, per dare una scalata graduale al potere. Lo stesso Hitler avrebbe dichiarato che il suo scopo era quello di servirsi della democrazia, dei suoi impianti, delle sue strutture, per ottenere ciò che voleva. E poi questa democrazia, giudicata, superata, corrotta, inefficace, sarebbe stata spazzata via. Ecco, proprio in questo periodo, nella seconda metà degli anni venti, Roland Freisler comincia a mettersi in luce, perché da un lato è un avvocato di quelli temibili da incontrare in tribunale, perché ha una forza oratoria potente, urla, tiene delle ringhe interminabili, a volte sostanzialmente vince i processi per sfidimento degli avversari, come un pugile sul ringhe che mattella il suo nemico di pugni finché non crolla al tappeto. E dall'altro si lega sempre di più alla causa nazionalsocialista, innanzitutto difendendo nei processi le SA, le camicie brune, che in quel periodo costituiscono la bassa forza del partito. Le SA picchiano, picchiano tutti gli avversari, devastano i negozi degli ebrei, gettano nel caos la società tedesca dell'epoca. Ebbene, Freisler difende le camicie brune in tribunale, ma non solo. Si propone anche all'interno del partito e viene segnalato, proprio nel partito, come un ottimo oratore, non un uomo su cui puntare per incarichi di governo, perché è troppo egoista, è troppo egocentrico, è troppo in tutto, soprattutto per quanto riguarda l'evidente fama di luce dei riflettori e di ruolo dominante. Però Freisler può essere utile. Forse per questo motivo, che nel 1933, quando Hitler prende il potere, tempo qualche mese, Freisler ottiene un incarico decisamente interessante, per non dire di alta, altissima responsabilità, perché diviene consigliere di Stato, dirigente ministeriale, poi nel breve volgere di qualche mese diventa segretario di Stato al Ministero della Giustizia, di tutto il Reich. Una carica che ricoprirà per otto anni, dal 1934 al 1942. È un incarico pesante e che sostanzialmente gli attribuisce quello che è il ruolo del procuratore generale di Stato. Può decidere lui, Freisler, a chi attribuire i vari processi o addirittura avvocarne a sé la responsabilità di istruirli, di fare da pubblico ministero. È un personaggio, Freisler, che non piace a tutti nel partito. È un lupo solitario, un cane sciolto, non ha padrini politici, non ha dietro di sé un Göring, un Bormann, un Hess, un qualcuno che possa coprirlo, magari anche avvantaggiarne la carriera. No, signori. È da solo. E da solo preferisce restare. Ha un solo grave crucio. Hitler non lo riceve mai. Pur lui dimostrando una devozione cieca al regime e al suo capo, Hitler preferisce tenersi buono, comunque, quell'uomo che chiama il mio bolcevico, ma non incontrarlo mai, non legittimarlo mai di una stretta di mano o peggio ancora di una fotografia. Forse per non compromettersi o forse perché, in fondo, esistono sempre delle gerarchie da rispettare. La stretta di mano e la foto va garantita a chi gioca di squadra, a chi gioca in singolo. Meglio sfruttarne le capacità. Freisler in quel periodo manifesta tutta la sua ideologia che è fortemente razzista, è un antisemita dichiarato, ma è anche l'esatto contrario di tutto l'impianto giurisprudenziale tedesco. I filosofi del diritto che hanno scritto tante pagine e tanti volumi all'interno della tradizione giuridica tedesca vengono sostanzialmente superati da Freisler. Li salta a pie pari o addirittura li rinnega anni dopo altri filosofi del diritto come l'argentino Carlos Santiago Nino avrà difficoltà a tracciare un profilo della giurisprudenza di Roland Freisler che pure scrive trattati, scrive libri, ma l'idea di giustizia di Freisler è sostanzialmente una sottomissione totale della giustizia al potere politico. Nei volumi di Freisler ricorrono delle frasi, delle parole chiave, il principio di autorità, il Führerprinzip, il folk, il popolo, la razza. Freisler in pratica diviene l'esecutore dei voleri del regime. Non è un uomo adatto a maneggiare il diritto, è più un esecutore, un boia. Ecco, a fare il boia si trova decisamente bene. forse perché nel 1937 Freisler era tornato a Mosca, non stavolta come prigioniero per carità, ma come diplomatico e soprattutto uditore. Perché nel 1937 a Mosca si apre la grande stagione delle purghe staliniane. Stalin e i suoi lacche decidono di spazzar via un'intera classe militare. Quasi tutti gli altri ufficiali vengono accusati di alto tradimento, trascinati in processo dei processi falsa, condannati e uccisi. Solitamente per impiccagione o fucilazione. Alcuni vengono deportati ad est e di loro non si saprà più nulla. Ebbene, Freisler in quell'occasione vuole vedere all'opera Andrei Viginsky, il pubblico ministero di Stalin, colui il quale verrà chiamato, forse in senso dispregiativo dai sovietici, il Freisler sovietico. Così come Freisler verrà chiamato il Viginsky nazista. Strano, no? Questo intreccio di ruoli tra due pubblici ministeri dall'ideologia completamente opposta e anche dai metodi opposti. Le uniche due somiglianze tra Viginsky e Freisler sono l'estrema puntigliosità, sono tutti e due molto pignoli nella preparazione dei loro processi e delle loro arringhe e l'estrema determinazione e devozione al potere. Per il resto sono diversissimi. Tanto Freisler è violento, urla, insulta in tribunale i suoi avversari e ovviamente gli imputati e i loro eventuali difensori. Tanto Viginsky si mantiene calmo di una calma glaciale che forse fa ancora più paura, freddo, determinato. Sono come il fuoco e il ghiaccio, due mondi opposti. Eppure da Viginsky Freisler vuole imparare qualcosa. Impara a essere sempre più attento ai dettagli. Impara a servirsi della giustizia o di quella che dovrebbe essere la giustizia per fare gli interessi di qualcun altro. Forse per questo motivo Goebbels comincia a nutrire dei favori verso Freisler. Ne promuove la causa a Hitler anche quando è il momento di nominare il ministro della giustizia del Reich dopo la morte di Götter, il precedente titolare del di Castero. Ma quel ruolo Freisler dovrà sudarselo e non riuscirà a ottenerlo perché Hitler lo vuole da un'altra parte. Lo vuole anche su suggerimento di Heinrich Himmler alla presidenza del Volksgerichthof, il Tribunale del Popolo. Uno strumento non di giustizia, ma di repressione, uno strumento brutale che vedrà Freisler in prima fila. Non solo, Freisler ha anche un altro ruolo all'interno del complesso meccanismo nazista. Quando il 20 gennaio del 1942 avanza si ritrovano gli alti papaveri per decidere l'endlosung, la soluzione frenale del problema ebraico, Freisler è uno degli invitati, dei convenuti a quel tavolo, da indicazioni. Riesce a sminuire forte della sua carica al ministero di giustizia le rimostranze di Kritzinger, esponente della Cancelleria del Reich e dell'avvocato Wilhelm Stuckart che difende le leggi di Nuremberg e che teme che un massacro indiscriminato possa portare a problemi giuridici, a cominciare dalle successioni testamentarie, sino a distruggere quello che è il fondamento dell'algemeine Rechsler, la parte fondante del diritto tedesco. Freisler è spietato anche in quell'occasione e si dimostrerà ancora più spietato nel suo ruolo di presidente del tribunale del Reich, un tribunale che lui presiede dal 1942 fino alla morte, nel febbraio del 45. In quei tre anni Freisler è l'incubo di tanti tedeschi. È lui a dominare la scena in dei processi che durano pochi minuti, che si aprono con le sue invettive, che si svolgono con domande piccate, volgari, forti, a volte eccessive nei confronti degli imputati e si concludono sempre con la condanna a morte. Per le aule del tribunale del popolo presieduto da Freisler passano i giovani della Rosa Bianca, l'organizzazione clandestina, cristiana, di ragazzi che in maniera pacifica, non violenta, si oppongono al regime. Vengono tutti condannati al boia da Freisler, che ogni volta che emette un verdetto di condanna è compiaciuto, gli piace esercitare quel tipo di potere. Poi, dopo il 20 luglio del 1944, a Freisler tocca il compito di giudicare, tra virgolette, i responsabili del tentato assassino di Hitler e da quel momento ci si dedica anima e corpo. Dall'agosto del 44 fino alla morte istruisce processi uno dopo l'altro e umilia letteralmente gli imputati. Alfeldmaresciallo Witzleben viene ad esempio impedito di portare le bretelle o la cintura al punto che uomo anziano è costretto a tenersi i pantaloni con le mani per evitare che gli cadano nel corso del dibattimento e anche per questo viene insultato da Freisler. È spietato e Hitler se ne compiace ha trovato il suo Viginsky lo dice lui stesso è il mio Viginsky è il mio giudice il giudice che serve la mia causa non se ne salva uno dalla furia di Freisler o meglio uno si salva chi si salva? È il conte Fabian von Schlabendorf e si salva per un motivo è il 3 febbraio 1945 è un sabato eppure il Tribunale del Popolo non conosce fine settimana quella mattina Freisler ha dato disposizione per celebrare il processo a carico dei giovani ufficiali di tutti quegli attendenti aiutanti di campo che avevano seguito i vari congiurati Fabian von Schlabendorf era stato aiutante di campo del maggior generale Fontresco che si era suicidato con una granata simulando un'imboscata dei partigiani russi lo aveva fatto per preservare la propria famiglia da eventuali ritorsioni con Schlabendorf però non si era salvato era stato arrestato portato a Berlino e lì doveva essere processato e veloceminamente condannato a morte se non che poco dopo le 10 e mezza di quel mattino a Berlino risuonarono le sirene dell'allarme antiaereo si annunciava l'ennesima incursione dei bombardieri americani per questo motivo viene ordinato di sgomberare il palazzo di giustizia e di far scendere tanto la corte quanto gli imputati nel bunker preparato nei sotterranei nel giro di pochi minuti tutti quanti si ritrovano nel bunker se non che dopo mezz'ora nel pieno del bombardamento Freisler si ricorda di aver commesso una leggerezza di aver dimenticato alcuni fascicoli riguardanti l'udienza riguardanti proprio quegli imputati nella sala delle udienze sopra la sua scrivania sopra il suo scranno incurante degli avvertimenti da parte dei soldati di guardia decide di uscire dal bunker e di tornare dentro il palazzo per recuperarli pochi minuti dopo si compie appunto la nemesi Freisler trova gli appunti li raccoglie ma in quel momento una pesante bomba sganciata da un bombardiere americano entra attraverso il tetto del tribunale esplode sopra l'arcata che regge la cupola del tribunale e fa crollare una pesantissima colonna di marmo sulla testa di Roland Freisler che finisce schiacciato ebbene volete sapere qual è la cosa buffa che a comandare quell'incursione aerea alleata era un tenente colonnello Robert Rosenthal americano figlio di ebrei scappati dalla Germania e lo stesso Rosenthal parecchi anni dopo sarebbe stato procuratore al processo di Norimberga questi sono gli episodi che ci fanno pensare come a volte la storia forse si diverta a ritrovare un punto di equilibrio Roland Freisler pertanto troppo tempo si era arrogato il diritto di decidere delle vite delle persone in nome di un regime sanguinario e della sua devozione a questo regime oltre alla sua voglia di emergere come fedele esecutore dei desiderata del dittatore a porre fine alla sua vita e a riportare un equilibrio sarebbe stato colui che un domani sarebbe stato giudice e che era oltretutto ebreo e figlio di ebrei fuggiti dalla Germania buffa la vita buffa la storia a volte quando il cadavere di Freisler venne portato all'ospedale per il riconoscimento uno dei portantini si lasciò sfuggire una frase questo è il verdetto di Dio chi lo sa forse se Dio esiste ha veramente voluto pareggiare i conti in quella maniera o forse è stato il caso non lo sapremo mai quello certo è che Freisler ha ottenuto una morte ingloriosa a fronte di una vita estremamente violenta come le sue parole come i suoi discorsi le sue arringhe ma non ha ottenuto nemmeno l'onore che voleva non ha mai incontrato Hitler Hitler non gli ha mai stretto la mano non ha nemmeno ottenuto da Hitler la gloria postuma dei funerali di Stato piuttosto un funerale semplice privato con inumazione nella tomba di famiglia quasi uno spregio a voler vedere la questione con gli occhi del futuro e questo ci ammonisce perché servire un regime sanguinario in nome di idee folli e di la volontà di far carriera può tradursi improvvisamente in una fine ingloriosa in cui non si viene ricordati per essere stati degli uomini di legge o degli uomini di potere ma solo per essere stati dei boia solo che al posto del cappuccio nero si indossava il saio e l'ermellino di un giudice ma negando i principi del diritto negando tutto ciò su cui si basa il senso di giustizia ed affermando solo un principio quello personale in barba a tutto ciò che dovrebbe rappresentare la signora con la bilancia di un'altra di un'altra Grazie a tutti